Chiusura al pubblico degli uffici comunali e rideterminazione delle scadenze per i tributi locali. Questi provvedimenti a seguito di un'altra ordinanza contingibile e urgente disposta dal sindaco di Caltanissetta. Vengono rideterminate le scadenze per il pagamento dei tributi comunali. Nel caso dell'Atari 2020, la prima rata dovrà essere pagata entro il 31 maggio, ma dato che si tratta di una domenica, slitta il 1 giugno, seconda rata 16 luglio e terza 16 novembre 2020, mentre il 16 giugno sarà il termine ultimo per il pagamento in unica soluzione. Il termine del 31 maggio e quindi primo giugno, dato che il 31 cade di domenica, si ripropone anche nel caso dei versamenti dell'imposta di pubblicità e della TOSAP che erano in scadenza nel mese di aprile. Non si prevedono però rimborsi per chi ha già effettuato il pagamento, mentre possono essere comunque rispettate le scadenze originarie. E poi ancora dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020 si sancisce la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, ma anche della Villa Cordova, Villa Monica, Parco Robinson e Villa Medeo. In questo caso l'accesso viene concesso ai soli residenti di due civici di Villa Medeo. Vengono assicurati per i servizi essenziali individuati come indifferibili, e cioè l'ufficio di Stato civile per le dichiarazioni di nascita due giorni alla settimana e di morte tre giorni alla settimana, il cimitero comunale per le sepolture e realizzazione e manutenzione di edilizia funeraria pubblica, la Polizia Municipale, l'ufficio servizi sociali solo tramite prenotazione telefonica, protezione civile e lavori manutentivi di reperibilità ed erogazione acqua per l'agricoltura. Nell'esercizio delle loro funzioni rimangono il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale e le Dirigenze. Ponendo a quest'ultima l'obbligo di verificare, si legge, la compatibilità delle disposizioni di quella articolo 87 del Decreto Legge numero 18 del 17 marzo 2020 con i relativi servizi di competenza, sospesi in questo periodo anche i rientri pomeridiani per i dipendenti comunali. Un'ordinanza in cui si fa riferimento anche alle modalità di svolgimento del lavoro, ad esempio garantendo tutte le misure ministeriali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica nel caso degli uffici aperti al pubblico o ancora del lavoro agile con raccomandazioni sia per i datori di lavoro pubblici che privati e infine indicazioni per i cittadini per la limitazione del contagio. Grazie a tutti.